Sclovy ti permette di tenere traccia non solo delle operazioni effettuate attraverso la cassa del tuo negozio o ristorante, ma anche tramite canali alternativi, come ad esempio il delivery o il tuo e-commerce. Per poter avere un resoconto sempre aggiornato, ti basta impostare i canali di vendita. Apri il menu principale e vai alla voce Impostazioni, Canali di vendita. Troverai un elenco di voci di default che potranno essere modificate o eliminate in ogni momento, selezionandone una in elenco e modificando le singole impostazioni che visualizzi sulla destra. Premendo il tasto più è possibile creare il tuo canale personalizzato. Inserisci un identificativo, utile per far riconoscere il canale da integrazioni esterne. Un nome, che sarà quello visualizzato in elenco e durante la gestione dell'ordine o della vendita. Inoltre, hai la possibilità di inserire il link all'immagine da utilizzare come icona e quello del tuo sito web. Puoi definire un metodo di pagamento standard che verrà selezionato automaticamente alla scelta del canale, e decidere inoltre se definire come già pagata l'operazione associata a quel canale, o se permettere la stampa automatica degli ordini provenienti da integrazioni esterne. Una volta apportate tutte le modifiche, premi Salva e Conferma. Puoi eliminare un canale dall'elenco in qualsiasi momento, premendo il tasto Elimina. Grazie a tutti.